La cellulite è una malattia, sì, dei pubblicitari. La cellulite interessa dopo la pubertà l'80-90% delle donne, è legata agli ormoni sessuali femminili che bloccano i liquidi e favoriscono il deposito dei grassi. Scientificamente viene definita come un'alterazione del pannicolo radiposo che si trova sotto la cute e in particolare a livello di cosce, fianchi e glutei. Questo suo manifestarsi, sempre nelle stesse modalità, fa ipotizzare che abbia una vera e propria funzione, ovvero quella di accumulare e conservare energia in vista di un'eventuale gravidanza. È quindi una condizione naturale ben distante dall'essere una malattia. Tuttavia, dal momento che in alcune donne crea fastidio ed anche per il fatto che è legittimo volersi vedere con una pelle più tonica, in Almacabio abbiamo sviluppato il trattamento Acti Slim che migliora lo stato funzionale del pannicolo adiposo e cura l'aspetto estetico. Acti Slim agisce contro gli inestetismi della cellulite e gli accumuli localizzati di adipe grazie agli estratti di semi di guaranà. La sua formula con estratto di drosera favorisce la riduzione della circonferenza coscia grazie alla riduzione della dimensione degli adipociti e all'azione preventiva verso l'accumulo di nuovi grassi. Nel contempo, la presenza dell'alga nori e vacame attiva lo scioglimento dei grassi, ristruttura e districa il groviglio fibroso, protegge i vasi capillari rinforzandoli, favorisce l'eliminazione dei liquidi e promuove il trofismo cutaneo.